Uno, due, tre, via! Ragioniere Fantozzi, ma che cosa ha fatto? Ha abboccato! E dai, ha abboccato anche il mio! Tiri, tiri, abboccato! Ehi, come va la pesca miracolosa? Bene, bene, ne abbiamo già presi otto, tutti dello stesso tipo, belli grassi! Nove! Dio! Ma Ufo! Sono topi di fogna! Sì, ma scusi, ragioniere, ma io avevo avuto il mezzo sospetto che... Sei sempre il solito maiale, ma andate a pescare a largo, sozzoni! Ma sì, prendete la mia barca, no? Eh, facciamo una cosa, buttiamo, butti via questi... Topi! Ma che topi è topi! Per favore, ragioniere Fantozzi, non ci si metta anche lei! Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto, possono piacere o non piacere, e su questo io non discuto, ad ogni modo a me la grigliata di pesce ratto piace da morire! Ad ogni modo, lei lo ha detto, buttiamo a mare questa grazia di Dio! Lì, là! Contento?